La PSD2 è una direttiva comunitaria nuova che ha come scopo, come dice il nome, di rivedere la precedente direttiva sui servizi di pagamento, per cui gli stati membri hanno l'obbligo di recepirla entro il gennaio del 2018. Che cosa dice in estrema sintesi questa importante direttiva? Dà la possibilità innanzitutto di abilitare servizi innovativi che prima non erano presenti, segnatamente quelli legati all'accesso ai conti, dando la possibilità a terze parti, anche non bancarie, di poter fare delle operazioni ad esempio di avvio del bonifico o di accesso ai conti per verificare quello che è il saldo o quello che sono taluni i movimenti. Questa opportunità, dicevo, della PSD2 apre notevolmente quello che è il terreno competitivo, appunto permettendo l'ingresso di questi nuovi attori che saranno poi soggetti vigilati, dovranno quindi prendere, chiedere, ottenere un'autorizzazione presso in Italia la Banca d'Italia e operare appunto come istituti di pagamento. Questo è quello che il legislatore comunitario ha sostanzialmente indicato sotto il profilo delle opportunità. Esiste poi un'altra importante previsione che è quella invece che impatta direttamente il consumatore, oserei dire quindi l'acquirente che utilizzando uno strumento di pagamento elettronico presso un esercizio commerciale può sostanzialmente trovarsi nelle condizioni, l'esercizio commerciale, di o non accettare tutte le carte o in alcuni casi di accettare delle carte ma per talune di esse applicare un surcharge. Questo è un aspetto estremamente delicato su cui il legislatore comunitario peraltro lascia agli stati membri l'opportunità appunto di emendare o di, come dire, recepire opportunamente. In linea di principio quindi si ha che cosa? Che per talune carte segnatamente quelle che sono ricomprese nel regolamento 2015-751 che è un ulteriore regolamento che accompagna sostanzialmente l'APSD2, l'esercente non può applicare alcuna sovrattassa verso il consumatore, verso l'acquirente. Questo è un aspetto da tenersi, come dire, in considerazione perché appunto, come vi dicevo, permette o, come dire, dovrebbe sostanzialmente permettere una ulteriore, come dire, facilitazione di quello che è l'utilizzo dello strumento di pagamento alternativo al contante. Attenzione, quello che sto per dire non lo sto dicendo soltanto presso l'esercizio di vendita fisico, anche online. Quindi tutto ciò che è sostanzialmente il cosiddetto surcharging dovrebbe, appunto, usiamo il condizionale, essere vietato. Cosa sta facendo l'Italia? E qui concludo. L'Italia, per quanto concerne il ricepimento della direttiva PSD2 e per quanto tiene l'attuazione del regolamento 2015-751, ha recentemente varato nella legge di delegazione comunitaria 2015 una previsione tale per cui sostanzialmente entro 12 mesi, quindi sostanzialmente entro settembre del 2017, dovrà essere emanata normativa di rango primario, atta appunto a trasporre e recepire la direttiva, nonché dare appunto misure attuative per quanto concerne il regolamento. A seguire poi ci sarà ovviamente emanazione di norma di rango secondario, quindi ci saranno disposizioni attuative, ci sarà evidentemente Banca d'Italia che appunto indicherà previsioni di attuazione. Questo è in linea di principio e assoluta sintesi, un po' lo scenario che si delinea, oserei dire, da qui a 2-3 anni per quanto concerne sia l'impatto sul mercato dei sistemi di pagamento digitali, a seguito appunto del ricepimento della PSD2, sia sotto il profilo delle opportunità, come dicevo all'inizio, l'apertura appunto a questi nuovi servizi.